Grazie mille, un applauso anche a Licia. Grazie mille per aver permesso questo. Io, scusami. Perfetto. Poi devo ringraziare, devo ringraziare. Allora, noi che siamo di fuori, io che sono di fuori, non so se si sente, sono di Bolzano. No, io ho detto Bergamo. No, di Bolzano. Bolzano, ok. Allora, conosco Casoli, soprattutto grazie ad una persona, che è un po' la vostra memoria, e me lo so tutto scrivere, Casoli.org, nella persona dell'architetto Maria Carmela Ricci. Per paura non va a pagare. Prego, architetto, venga, c'è posta per lei. Sì, a tutti noto. E quindi è un modo per dirle grazie. Eh, ma poi c'è una sorpresa. Caramba che sorpresa! La tu mi sono presa, grazie. Grazie. Ed è il minimo perché si è messa anche lei e ci permette di vivere questi momenti.